e benvenuti in questo video oggi siamo tornati su sonic frontes per vedere se riusciamo a prendere quella che ho semnale che sta là sopra quindi oggi ci proviamo subito allora ragazzi sembra che dobbiamo andare per qua per andare a prendere il che ho semnale quindi adesso facciamoci tutto questo percorso fino ad attivare là sopra mamma mia ragazzi ci devo fare tutto sto percorso per poi andare là sopra cioè andiamoci piano eh perché qua ho paura di sai sapete com'è sto gioco cioè a volte mettono dei salti a trabocchetto quindi allora perfetto perfetto andiamo di qua e ok così cioè ragazzi ma io sto facendo un perc... c'è tutto sto bordello si deve fare se ci rendiamo conto ok ok perfetto ma no dobbiamo fare di qua ovviamente ok vai dove sto andando perché sto scendendo no 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 non sotto sopra ok perfetto eh ok poi di qua poi di qua se ragazzi mi rendete conto che bordello sto facendo c'è ok perfetto vai oh qua c'è Tails anche qua c'è anche Tails potrei anche già parlare con lui volendo allora però prima raccogliamo il che ho Semerand c'è una cosa in ordine perfetto trovate Tails però qua c'è sta un Tails io volevo parlare prima con lui ma te se me ne vedete siamo venuti fin qui perché abbiamo rilevato la presenza dei Chaos Emerald ci hai capito qualcosa? sto cercando di mettere insieme i pezzi la tecnologia degli antichi è stata concepita per i Chaos Emerald che la alimentano i sistemi delle Star for Island e il cyberspazio senza l'alimentazione degli Emerald sono rimasti ibernati ma una volta ripristinata l'alimentazione qualcuno avrebbe dovuto avviare il sistema per azionarli e credo anche di sapere chi mmm bene allora io adesso io adesso io da qua come devo scendere scusa innanzitutto salviamo salviamo innanzitutto perché ho paura che poi dobbiamo rifare tutto sto bordello cioè scusate io ah ma ci sta qualcosa il pavimento yuhuuu uh perfetto andiamo subito da Tails Tails sto arrivando allora vai dimmi qualcosa lo so mentre esploravi l'isola ho esaminato questa porta sembra proprio che si sia sbloccata dall'interno ottimo dunque come la apriamo vedi l'interruttore accanto alla porta credo che reagisca alla cyber energia accumulata nel tuo corpo non sappiamo cosa ci sia dall'altra parte ma scommetto che è importante azionalo quando sei pronto sono sempre pronto ok ah così così a caso ok un pulsante è la madonna è la madonna che cazzo è un flipper ma è un flipper sto coso sonic ah così cioè non mi dite che devo fare una di quelle sfide luogo antico dell'aspetto mamma mia come per il gioco scoprire cosa succederà no vabbè ragazzi il flipper il flipper oh mio dio mamma mia che dico il flipper ui mamma mia vabbè mamma mia fortissimo mamma mia signori il flipper è sempre una cosa che mi è piaciuta ragazzi sta succedendo qualcosa ma l'ho fatto l'ho fatto così a caso non lo so manco come l'abbò fatto ok bella madonna eh il boss signori signori il boss dai ragazzi questo boss lo dobbiamo sconfiggere dai ragazzi ma io tanto ci scommettevo che c'era il boss tanto in qualche modo in qualche modo è da gli aver provocato un'eruzione e la lava ha dissipato il muro di nuvole e ha rivelato qualcosa direi che ne so abbastanza sui flipper da riconoscerne uno quando lo vedo erano davvero parti delle rovine originali questa tecnologia supera quella di Eggman ed è davvero antica l'amore per i flipper deve risalire a prima della civiltà Sonic hai davvero intenzione di affrontare quel titano laggiù anche nei panni di Super Sonic qualcosa ma questo è l'ultimo ma siamo sicuri vai al cratere ok minchia ragazzi forse questo è l'ultimo titano ma io ci spero ragazzi perché adesso la sono 5 non ce la faccio più io non ce la faccio tutte e cinque le isole allora cioè devo andare al cratere io già ci sono al cratere ma devo buttarmi e io mi butto ok mi dovevo buttare e la madonna eh ma sto cos'è cazzuto regà sto coso sembra cazzuto knight cavaliere ma è un cavaliere saliamo sulle cose devo se riesco a salire ma eh sì certo eh come faccio a salirci come come no no mi sembra no ring mi sembra no ring qua ci muoio qua ci muoio dai su forza aia si ma regà ma come faccio aiuto la mano la mano la mano la mano non ci voglio crede eh sì vabbè ma sto coso è troppo attenzione aiuto aiuto attenzione che attacca attenzione che attacca perfetto ma dai ma come faccio adesso lo dobbiamo fare devo salire su quella mano sì no devo starci sopra forse madonna aiuto se ne che attacca eh vabbè e niente fatta è la più semplice del previsto però prima di tutto ragazzi ring ring ragazzi ring 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 a volontà ci servono i ring vai forza 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 ok ragazzi ma si può salvare in qualche modo ditemi si può salvare no non si può salvare mannaggia vabbè dai forza oh non me più ragazzi forza eh questa è una spada porca eh la madonna ragazzi attaccalo attaccalo eh 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 excuse me bro bro se cimai troppo perfetto mamma mia ragazzi eh lo devo comandare sembra eh sì certo però state calmi eh la madonna è la madonna ma lo devo mandare su di lui dai forza dai ma quanto è difficile sì ce l'ho fatta non so come ma ce l'ho fatta attaccalo attaccalo sto qua attaccalo attaccalo lo devi attaccare attaccalo prata prata questo attacco questo attacco perfetto mamma mia ragazzi lo stiamo andando dai lo stiamo andando dai forza ragazzi ma che cazzo sta succedendo ma questo boss è una figata secondo me è uno dei migliori attaccalo 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 lo devi attaccare capito ahia mi ha colpito attenzione no qua c'è lo scudo no ok ora rinnova il fatto del corso allora veloci pam perfetto allora vai andiamo andiamo su di lui su di lui perfetto no l'hai spinto va vai su di lui su di lui su di lui vai su di lui ho detto aiuto ragazzi quanto è difficile sì perfetto eh ma mo ti va il difficile no ok eh ma mo qua è il difficile no ancora ma adesso mi segue aiuto aiuto però se tovesse un po' fermo però questo quavo questo qua non si ferma più legato ho colpito ahia porca di quella aia porca di quella se raga ma questo è difficile no 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 ma smette di girare che dobbiamo girare giro 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 torno quanto è bello il mondo eh se certo ah ma ci colpito non può che ma ci colpito becca dai ragazzi dobbiamo perdere troppi vieni qua e non girare vieni qua e non girare vieni qua e non girare vieni qua perfetto adesso bro vieni qua no no bro vieni qua per favore bro vieni eh buccato questo è fulgore eh se ma questo si ferma meca pure ma qua si è un'altra aaaaa vieni qua brutto figlio di bro che gira eh 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 ragazzo bro gira solo non vuole attaccare eh questa è una tattica che mi vuole far perdere ring questo questa è una tattica che usa per farmi perdere tempo e ring dovrò cercarlo di attaccare il più possibile aia vieni qua mannaggia è quella si morisce a percepire con dove gira però da che parte non la smette di girare non la vuole smettere aiuto aiuto ma sono me no regà ma non sai forse sono risicosi fa pottarsi non lo so dai ragazzi perfetto dai perché non dai su forza ragazzi dobbiamo far perdere il più vita possibile no non devo stai là infatti però stavo solo provando nel frattempo le chitarre in sottofondo preso il blu dai porca di quella quanto sei veloce ragazzi non ce la faccio non ce la faccio mai ragazzi non ce la faccio mai mi tolgo troppo poco cioè come faccio se questo gira aspetta oh ragazzi abbiamo fatto qualcosa me la passo qualcosa me la passo qualcosa aia però come fa il squadro è su quanto gira veloce però eh lo sembro seguito vai 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 non ce la faccio ho troppo poco che dingo una spada una spada forse si no bella però però se questo si muove solo eh me la faccio me la passo me la passo qualcosa se questo si muove così tanto è su vai oh il coso il coso capito come dobbiamo fare ora vi faccio vedere aspettiamo che c'è nel pocavolo ci dobbiamo mettere no ho sbagliato guarda le patate no ho mancato dai colpiscilo eh però non è proprio semplice com'è perfetto attaccalo sto coglione aia ragazzi qua mi devo studiare un po' gli attacchi no di poco no di poco no come ah ah va dai ah dai 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 che salta dai ho parato beh ragazzi penso che ce la facciamo eh anche se ci colpisce forse ce la facciamo no noo noo che ne so non so manco io le minchia l'ho mandato oh ho colpito dai 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 forciaco perfetto perfetto che cosa sta facendo aiuto no ho sbagliato ok eh venga cosa sta facendo eh ah perfetto dai dai che è mostro sì dai con la spada perfetto oh la spada mamma mia se addirittura perfetto eh ok penso che ti succedo con quella spada vai Sonic mamma mia signor eh così ah tagliato a due proprio tagliato a due e anche questo boss è stato sconfitto ragazzi ma devo dire che su me sto gioco c'è dei combattimenti assurdi hm eh ah così proprio hai conquistato ciao vabbè me ne frega se l'ho fatto il 19% tanto l'importante è conquistare le isa cioè ragazzi ci mancano ancora due due ci rendiamo conto troffa guadagnato resistenza futile futile uno vabbò hm eh che sta succedendo eh devo avere paura devo avere paura per caso ok ok ah mi ingangco sicilio è stato rivelato silenzio alle sei torri abbatti le pareti tra le dimensioni oh bene pensavo stessi per dirmi che c'era un titano a sorpresa Sherry resisti amico ce l'abbiamo quasi fatta sta attento attento e che gusto c'è minchia ti vedo affaticato come non so devo disattivare le sei torri e disattiviamole subito visto che ci siamo qua ma per caso ok tampolino ok facciamo così così perfetto ok ok perfetto mica che percorsi però andiamo piano ragazzi perché ho paura di cadere ma fan bene voi che mica un po' di mostri a sdomperci le balle cioè aspetta mica quanto in alto dobbiamo andare ok 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 se vabbè ma tutta quell'altezza dobbiamo fare io se cado ragazzi mamma mia gli scleri perfetto perfetto grazie ho paura di cadere cioè ma lo vedete quanto cazzo sono alte cioè noi non abbiamo fatto manco metà nato poco ok questa è la prima ok eh ah ok no ok 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 ragazzi ve le taglio perché ok e sta ma due ovviamente anche un alto filmato la terra è la ah 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 proprio così me lo dite eh la madonna ah 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 eh sonic che ti succede sonic eh sonic oh la tua cybercorruzione sta accelerando come puoi sorridere ti reggi in piedi a malapena ma come cazzo fa ma come cazzo fa vabbè andiamo alla prossima ok ok stamm a 3 con questo ok ok stamm a 3 con questo Hmm Hmm Un cross emerald Questo è Cosa Cosa deve rappresentare Sti filmati poi Ogni volta Non andiamo al quarto Scusate come dove uscire da qua C'è Perché sono impigliato in una Aiuto Non si può uscire Non si può uscire Non si riesce a uscire Sono morto Cioè che cazzo era sto coso Eccoci qua Al quarto Bisattiviamo pure questo Ancora i filmati Cosa 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 dai ragazzi rimane solo l'ultima torre vediamo un po che succede stavolta no no Ma quindi hanno loro che usavano i titani Io non riuscivo a capire Vabbè ma ora questi saranno lo spazio Ma mica ci vengono per non prego io Eh Sonic Eh Sonic Eh Sonic Emi Sono normale adesso Eh beh Ah è conquistato The Island così a caso Ci manca l'ultima isola Ma così mi stare a dire C'è Mi stare a dire che ci manca l'ultima isola Eh Sonic no Che gli è successo? Ha assorbito troppa cyber energia L'ha corrotto Quindi? Ora è bloccato tra le dimensioni Il mio unico rimpianto è non aver avuto il piacere di finirti di persona Roditore Dobbiamo riportarti nel cyberspazio Subito Ma sono appena uscito Era ciò che volevo L'ho simulato milioni di volte L'unico modo per farti sopravvivere è che tu non sia qui quando uscirà Quando uscirà cosa Ok Ok Eh Da tempo in memore Ho atteso in questo luogo I sigilli sono in Franza Ora Abatterò i muri che si ergono tralli dimensioni E consumerò ogni cosa No che non lo farai Chiamerò la flottiglia uovo e ti spazzerò via dal cielo Non ti basterà Ha trionfato sulla tecnologia degli antichi Hai lo 0% di probabilità di successo No Sonic ha dato troppo per arrenderci ora Quelli visioni Possiamo respingere la corruzione e riportarlo qui Facciamolo per Sonic A qualunque costo Minchia Minchia si sacrificano Sonic Voglio mostrarti l'eroe che sono diventato Sonic Hai ancora amore da dare anche in questo mondo Sonic Dopo questa siamo pari Eh vabbè Naros pure tu Eh Cioè non ho capito Grazie A tutti voi Non vi deluderò Minchia porca Doio Vabbè È tornato Possiamo farcela Non ho mai simulato uno scenario in cui Sonic ti aiutava Non avevo l'autorizzazione Non voglio comunque Ti prego Eh Sonic Ti dichiaro parte di Eggmanlandia e ti ordino di salvarci tutti Capito? Questa non è un'alleanza Vedila come vuoi Dottor Egocentrico Egocentrico Eh Eh Davvero? Hai tuoi ordini Eh Ok Eh ma un'altra isola Ragazzi siamo Ragazzi io direi che il video di oggi Può finire qua Spero che vi sia piaciuto Ora ragazzi ci manca poco per finire Sonic Frontiers E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao